ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video io sono fabrizio e quest'oggi parliamo di camus questa base direct drive low cost che entra in modo prepotente nel mercato delle periferiche per la simulazione di guida camus è un'azienda cinese che produce già auto elettriche e per una questione di passione decide di produrre periferiche appunto per la simulazione di guida la line up che presenta è veramente incredibile per quanto riguarda il posizionamento di mercato stiamo parlando di una base da 15 newton meter molto bella devo dire la verità vi anticipo un attimino quelle che sono le mie opinioni ovviamente un due corone una che avete visto nell'unboxing formato formula e un'altra formato gt la gts e inoltre una pedaliera da tre pedali che non ho avuto modo di provare però una line up comunque che si presenta con un prezzo di 1100 euro che ha queste caratteristiche e questo tipo di potenza come base nessuno oggi sul mercato offre a questo prezzo ovviamente la base costa 700 euro ragazzi le caratteristiche di questa base non entrerò troppo non sarò troppo tecnico però già a livello di dimensione stiamo parlando di una profondità di 24 centimetri alta 14 centimetri larga 19 pesa circa 11 kg e 3 la scocca è fatto in alluminio con quindi un materiale premium per un una periferica low cost già questa è qualcosa che impressiona l'avete visto anche dal video unboxing che se non avete visto vi invito ad andare a guardare in cui si percepisce già la solidità dei materiali e la qualità c'è un sistema un doppio sistema di raffreddamento per garantire il massimo della dissipazione del calore prodotto appunto del lavoro che fa questo servo ed in più la scocca è disegnata in modo tale che aiuti appunto la dissipazione di questo di questo calore vi è anche la presenza di queste feritorie laterale che danno la possibilità di inserire degli inserti per collegare direttamente la base alle vostre postazioni in profilati di alluminio vi è la presenza di quattro fori sotto la base anch'essi utili per direttamente fissare la base sempre sulle vostre postazioni ovviamente e dietro vi è la presenza di tutta una serie di connettori possibili perché camus sta già riflettendo ad un proprio ecosistema di periferiche infatti è già in previsione sta per uscire in realtà anche una versione a 8 new ton metri e qui si aspetta poi il prezzo di entrata il posizionamento di mercato sarà molto interessante vedere che cosa farà e proporrà camus abbiamo visto la parte frontale di questa di questa base da 15 newton metri ricordiamolo che è importante che offre questa button box che io ho già espresso il mio parere sono un po dubbioso sul posizionamento perché la ricerca dei tassi con appunto il volante in mezzo cioè è un po complicata quindi ecco perché esprime i miei dubbi e anche devo dire la qualità e la scelta di questi tasti un po anni 80 vintage li chiamo così io ragazzi che sono vintage in puro stile aliexpress con tutto il rispetto che ho nei confronti di aliexpress mi lascia perplesso perché il in generale questa è una base che ha un suo perché ha una qualità veramente eccezionale adesso lo vedremo in dettaglio però comunque è un'idea di base che secondo me va ristrutturata per quanto riguarda il posizionamento si potrebbe pensare in modo diverso a come configurare posizionare questi pulsanti perché comunque penso che nella logica di camus sia quello di far risparmiare l'utente il più possibile ti offro anche una button box cioè che non è non è da poco ragazzi ed inoltre poi un mozzo che è davvero impressionante a livello di resistenza non ci sono praticamente flessioni con un quick release a biglia che ha un aggancio fantastico e che dà questa sicurezza appunto di fermezza si inserisce scatto fatto che devo dire la verità con altri brand non ho avuto anzi per chi mi segue sapete bene che ho fatto anche un video dove ho cambiato l'anello di supporto proprio per cercare di dare più fermezza e non è che ho ottenuto grandi risultati quindi per una base che si proietta sul mercato come economica e che offre questo tipo di sicurezza in termini di mozzo e di quick release ragazzi hanno fatto un gran lavoro una cosa che faccio sempre quando prima di provare una una base un servo base lo fanno un po tutti perché è qualcosa che incuriosisce è quello di prendere di muovere il mozzo così a motore spento devo dire la verità che questo qua mi ha particolarmente impressionato perché è veramente liscio cioè è privo di quella granulosità che in alcuni servo si sentono questo anticipa poi quello che sarà la qualità in pista quando il motore sarà acceso una cosa che mi piace della di questa base anche il pulsante che è l'unico moderno retroilluminato che a garanzia che serve oltre che ad accendere la base a testimoniare che è accesa perché andare a cercare dietro a volte un po macchinoso e fastidioso abbiamo già visto anche la corona formula anche qui ho espresso i miei dubbi le mie perplessità sulla scelta dei pulsanti il design diciamo che è poco discutibile perché rimane sempre un discorso personale per quanto riguarda la bellezza la forma sono i gusti e tali rimangono quindi non voglio esprimermi più di tanto perché una corona poi non è quello che è importante perché alla fine quella si può cambiare nel complesso a livello tecnico questa base si presenta veramente molto bene solidità materiali comunque di qualità un sistema pensato per una buona dissipazione del calore un servo motore che a livello di prestazione ragazzi devo dire la verità mi ha veramente impressionato perché vi spiego normalmente quando devi configurare un servo base devi avere a che fare con oltre 15 parametri parlando di filtri senza nessun problema ragazzi parliamo di falate che è graniti device per simcube c'è tutta una sfilza di parametri da andare a sistemare prima di trovare il diciamo la configurazione perfetta per le proprie esigenze qui ci sono 5 o 6 parametri massimo e andare a trovare la quadra è veramente quasi non dico immediato ma quasi e il feeling che restituisce questa base in pista è davvero impressionante non ho tanto discorso da fare intorno a questo qui se non dirvi che sono veramente entusiasta di avere la fortuna di provare una base che si pone come concorrente diretto non soltanto sulla sua fascia di prezzo ma anche al di là perché con un force feedback così raffinato devo dire la verità ad un prezzo così conveniente io penso che sia stata una scelta molto intelligente hanno lavorato veramente molto bene a questo force feedback ragazzi cioè intanto vi ritrovate con un volante che non ha voglia di uccidervi e questo non è poco perché io non ho provato i due o tre ragazzi che ti staccano le braccia c'è una certa morbidezza per quanto riguarda le reazioni che ha il volante si ha subito questa sensazione di guidare istintivamente perché si hanno dei feed dei ritorni che sono veramente molto dettagliati è impressionante ragazzi cioè veramente non so come spiegarvelo è un qualcosa che ecco una cosa che fa questa base almeno con me è che è riuscita a riportarmi su quel sedile lì perché erano mesi che non ci andavo perché avevo perso un po' così non è che ero tanto non avevo tanto voglia mi è capitata questa occasione quindi ringrazio ancora nuovamente Alessandro di TZ Simproject perché mi ha dato questa opportunità di provare questa base e devo dire la verità che cavolo sono 3-4 giorni che non faccio altro che girare sulla simulazione in particolare sull'automobilista che trovo che si sposa benissimo cioè veramente è una base che mi sta sorprendendo positivamente sarà per me occasione ovviamente proporvi altri video test questa volta piuttosto che parlare solo delle mie opinioni così vivrete insieme a me quasi in live le emozioni che riesce a restituire questa base ragazzi quindi c'è solo del positivo a parte diciamo quei pulsanti lì che potevano cambiare rispetto a questa base il che fa presagire che comunque la mentalità di Gammus è quella di far risparmiare e farci divertire se questo video ragazzi vi è piaciuto non esitate a lasciare un like lasciatemi un commento che fa sempre piacere ragazzi e se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale tanto è gratuito noi ci vediamo prestissimo da Fabrice è tutto ciao